Ci troviamo all'ospedale di Giarre dove si è tenuta la seconda parte del consiglio comunale che è iniziato ieri sera nell'aula consigliare del municipio giarrese e che è proseguita questa mattina dopo una sospensione perché il tema principale di questa seduta è proprio la questione di questo presidio ospedaliero ormai lasciato in balia degli eventi, ormai depredato di tutti gli strumenti, degli uomini, un ospedale ormai fantasma. Noi abbiamo sentito il presidente della commissione sanitaria di Giarre, il consigliere del PD Tania Spitaleri. Da qua non si può toccare più niente, non si tocchi personale, non si tocchi strumentazione, non si tocchino servizi perché abbiamo avuto l'impressione fondata purtroppo che a seguito di una chiusura repentina e tempestiva del pronto soccorso poi non si sia provveduto ad attuare quello che era previsto nella delibera dell'Asp quindi ad attivare tutti i servizi che potessero dare sicurezza per la risposta alle emergenze e urgenze addirittura a singhiozzo si è provveduto a sospendere i ricoveri in reparti che invece da delibera resteranno a Giarre quindi pochi servizi, mal erogati e il fatto di... il decesso della signora porta oltre al cordoglio una serie di spunti di riflessione. Chiaramente oggetto di discussione è stato anche l'evento luttuoso che ha colpito tutta la comunità, non solo Giarrese possiamo dire tutta la comunità del distretto socio-sanitario 17 cioè la morte di una donna tra sabato e domenica che si trovava ricoverata proprio in questo ospedale nel reparto di geriatria, una donna che aveva dei problemi respiratori, degli scompensi cardiaci e che è stata abbandonata in questo ospedale dove mancavano dei medici pronti a soccorrerla. È venuto fuori da questo consiglio comunale che il comune di Giarre si costituirà parte civile nel processo sul decesso della signora, è venuto fuori un'altra cosa importante che riguarda il modo che le istituzioni locali hanno di intendere sanità una denuncia penale per interruzione di pubblico servizio per le mancate attuazioni delle risposte alle emergenze e urgenze ai vertici dell'ASP perché visto che questo territorio non viene rappresentato adeguatamente a livello sovracomunale è compito, dovere politico e morale delle istituzioni locali coprire queste assenze e coprirle con l'impegno civile e politico e coprirle con atti che siano significativi. Non è possibile che un comprensorio di dieci comuni abbia come risposta all'emergenza e urgenza è un ridicolo PPI che vede il servizio di un solo medico di guardia medica e di un infermiere. Non è questo quello che avevamo chiesto, non è questo quello che ci avevano promesso e non è possibile più derogare sulle inadempienze dell'ASP, della politica regionale perché abbiamo il dovere di difendere il diritto alla salute dei nostri concittadini e dei cittadini di un distretto sociosanitario importante ad altissima vocazione turistica purtroppo ad alto rischio sismico. Hanno lasciato un territorio scoperto e su questo non si può più derogare. Una lunga seduta del Consiglio Comunale che è iniziata ieri sera, come dicevamo prima, nell'aula consigliare del municipio giarrese che è terminata quest'oggi qui in ospedale proprio per affrontare questo caldo tema che sta a cuore a tutti i cittadini e non soltanto alle amministrazioni. Ma torniamo un attimo indietro, torniamo a ieri sera a quello che è successo perché si è parlato anche di politica chiaramente, di quelli che sono i movimenti nella maggioranza. C'è stata questa dichiarazione ormai ufficiale da parte di articolo 4 e di Aria Popolare che hanno preso posizione contro l'amministrazione e quindi si sono dichiarati all'opposizione. Ma noi sentiamo direttamente il sindaco Roberto Bonaccorsi in merito a tutta una serie di attacchi che gli sono stati mossi dai suoi oppositori politici. Mancava che mi imputassero la fame del mondo e poi c'era quasi tutto lo scibile umano lì dentro. È chiaro che è un documento che contiene imprecisione, è un atto più di rivendicazione che non un documento che fa riferimento ai fatti oggettivi. La città è vista da tutti, non basta ricordarsi quello che c'era due anni fa e farsi un giro per la città per vedere in che stato è la città e in che stato era. Bisogna essere leali, ho detto in consiglio comunale. In realtà è un principio dal quale non si può prescindere. Poi ognuno con le proprie capacità, gli errori che si compiono, l'attività amministrativa, ma questo è naturale che così avvenga come avviene tutti i giorni quando noi lavoriamo. Ma non conoscere e far finta di non conoscere la realtà significa fare altro. Quell'altro a me non mi appartiene, vengo da altre esperienze. Il mio lavoro mi impone di rispettare le scadenze, di essere ordinato perché faccio questo nella vita. Non si può essere d'accordo, ma è un'altra cosa. Imputare al sindaco la non democrazia nelle scelte è nascondersi dietro una realtà che forse non si condivide, ma lo si dica che non si condivide. Se si ritiene che questa città deve essere ancora saccheggiata dal punto di vista urbanistico lo si dica alla città, ma io sono contro. Ritengo che da anni se ne sono fatti tanti, che bisogna da questo momento muoversi con raziocinio. Se si ritiene che questa città o questa amministrazione o questo ente sia un ente che dal punto di vista amministrativo merita le loro... Ecco, io ritengo di no, ritengo che tutto deve essere perfezionato, ma è quello che ci chiedono i cittadini. Ce l'hanno chiesto durante la campagna elettorale, me lo chiedono ogni giorno quando io esco per la città.